Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. E il settore turistico, quello in maggiore sofferenza a causa del Covid. La stagione invernale è stata drasticamente penalizzata. Quella estiva, in previsione, al momento lascia pochi margini di ottimismo. Ivano Ortelli, dirigente della Faita Federcamping Abruzzo, analizza la situazione allo stato attuale. Non è delle più rose. Onestamente, innanzitutto, paghiamo scotto come settore intero del turismo per la chiusura degli impianti nelle località di montagna. Quindi un turismo che praticamente è stato completamente azzerato e che capiamo tutti che siamo mai agli ultimi scampoli della stagione. Per quanto riguarda il discorso estivo, si sta muovendo qualcosa, percentuali bassissime. E il più delle volte, ecco, la gente è invogliata magari a tentare di prenotare, anche perché abbiamo impostato, almeno come associazione e come diversi colleghi hanno seguito questo esempio, la possibilità di poter disdire la prenotazione in qualsiasi momento nel caso in cui intervenessero motivazioni legate all'emergenza Covid. Quindi diciamo che stiamo dando un segnale importante, cioè sognate, cercate di venire in vacanza e comunque vi tuteliamo, insomma, in qualche modo, ecco, con questa possibilità. C'è anche il discorso legato ai cosiddetti ristori, meglio se venissero chiamati risarcimenti. Sono pochi e di certo non sono sufficienti a garantire la copertura delle spese che le strutture ricettive devono affrontare. Non sono sufficienti, ma di questo già ne avevamo parlato. Noi abbiamo fatto più volte proposte come associazioni, ovviamente a chi di dovere, perché i ristori ovviamente non sono sufficienti. Non pretendiamo dei soldi ovviamente a fondo perduto. Quello che si chiedeva ovviamente è avere magari una gestione del credito che ci permettesse di allungare notevolmente i tempi per il rientro. Infatti chiedevamo sostanzialmente di portare i finanziamenti in essere e quelli che ovviamente ci serviranno ancora almeno a 30 anni, perché adesso la formula delle due anni di preamortamento e restituire in quattro anni capiamo benissimo che se continuiamo così sarà veramente difficile poterli ridare, insomma. Ortelli, recentemente è stato nominato delegato regionale al turismo all'interno dei Fratelli d'Italia. Un incarico ovviamente di matrice politica, ma che non esaurisce ovviamente la sua forza nell'ambito prettamente politico, perché mi permette comunque di continuare a livello istituzionale un lavoro già intrapreso come rappresentante della Faita Feder Camping. Infatti sono anni ovviamente che opero nel campo del turismo, sono responsabile di questa associazione e collaboriamo sempre di più e necessariamente con le istituzioni anche per venire fuori da questa crisi latente. Grazie a tutti.